L'amministrazione comunale di Agropoli, guidata dal sindaco Adamo Coppola, ha destinato 150.000 euro al del fondo assegnato dal governo per l'emergenza Covid, a sostegno dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza e di quelli in stato di bisogno. L'obiettivo è di soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali attraverso misure di solidarietà alimentare, con priorità per le famiglie che non risultano già assegnatari e di altri sostegni pubblici. I buoni spesa fruibili saranno diversificati in relazione all'ampiezza del nucleo familiare fino ad un importo massimo di 400 euro. Potranno presentare domanda compilando l'apposito modulo presente sul sito dell'ente i cittadini residenti ad Agropoli che hanno subito la chiusura o la sospensione della propria attività lavorativa, autonoma o in qualità di dipendente, disoccupati o inoccupati, o quanti verranno in stato di grave indigenza. Il termine ultimo è fissato per il 30 novembre alle ore 12. L'emergenza Covid ha messo in ginocchio troppe famiglie anche nel nostro comune, ha detto il sindaco Coppola. Per questo abbiamo deciso di destinare 150 mila euro per l'erogazione di buoni spesa in favore dei cittadini che hanno subito la chiusura o la sospensione della propria attività lavorativa, i disoccupati, gli inoccupati o quanti versano in stato di grave indigenza. Questa è soltanto una delle misure a sostegno dei nuclei familiari che vivono momenti di difficoltà, ha concluso il primo cittadino.